Napoli, sto arrivando! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Sì, sto arrivando Napoli! Sud, finalmente l'incontro di Arte per te dopo quattro incontri Alla fine ce l'abbiamo fatta ad organizzarlo anche al meridione L'incontro di Arte per te 2015 si svolgerà a Napoli Presso la Fiera delle Arti Manuali Creativa a Napoli In via John Fitzgerald Kennedy 54 E Ombretta la trovate al padiglione numero 5 Ci sarà assegnato uno spazio solo per noi Un corner con dei vostri sederi ovviamente Dove ci incontreremo e potremo finalmente conoscerci Scambiare quattro chiacchiere, farci delle foto Scherzare insieme, ridere Finalmente potrò dare un volto ad ogni vostro viso E potrò dare un bacio ad ogni vostra guancia Non vedo l'ora di conoscervi tutti Mi raccomando venite numerosi Insieme a me ci saranno anche la Ferrario La Pentel e la Tintoretto a farci compagnia con dei gadget offerti per voi Le aziende che hanno accompagnato in maniera più attiva la programmazione di Arte per te Fornendo dei prodotti per delle recensioni che poi io vi ho regalato nel corso dell'anno Partecipano anche al nostro incontro regalandoci dei gadget Che io sorteggerò lì per tutti voi Come ogni anno alcune aziende ci hanno accompagnato Così anche quest'anno ci saranno tanti premietti per voi Perché mi scoccia arrivare lì a mani vuote Così posso anche lasciarvi un ricordino di Arte per te e di Ombretta Spero di vedervi numerosi Non vi ho ancora detto a che ora Alle 17 di sabato 7 novembre Vi aspetto al padiglione 5 della Fiera Creativa Padiglione numero 5 ore 17 Non potete sbagliare tutto col 5 Alle 5 al padiglione 5 di giorno 7 però va bene Il sabato Un sabato pomeriggio diverso Pieno di affetto Pieno di amicizia Un sabato pomeriggio in cui potrete conoscere me Ma potrete conoscere anche gli altri membri di Arte per te Che siete voi Quindi potrete fare conoscenze reciproche E soprattutto io vi dico sempre Venite per me mi fa un sacco di piacere Ma approfittate perché c'è la Fiera Creativa Che sarà ricchissima di tante novità Tutte da scoprire Arte per te quest'anno sarà media partner Della Fiera delle Arti Manuali Creativa E questo cosa significa? Che sui miei social passeranno tantissime foto Che farò durante la visione da parte mia della Fiera Tutto quello che mi colpirà Io ve lo passerò su Facebook e su Instagram In modo che anche chi non potrà venire Anche chi non conosce la Fiera E vuole farsi un'idea di ciò che c'è in queste manifestazioni Possa rendersene conto attraverso il mio racconto Creativa non mi paga per fare questo Lo voglio dire Io faccio questo lavoro per Creativa In cambio del Corner per incontrarvi È un lavoro di cui mi sobbarco Per amore vostro Ma veramente ragazzi Perché avere un posto dove fare un evento In maniera gratuita Mi aiuta enormemente Creativa mi dà questa possibilità In cambio io svolgerò al meglio Spero questo lavoro In modo da offrire anche un servizio A tutti coloro del nord A tutti coloro che mi seguono da fuori Che non possono venire In modo da non rimanere troppo estragnati Ma stare con lo stesso con noi Quindi un appuntamento bellissimo La fiera creativa si svolge dal 6 all'8 novembre Ma noi ci incontreremo Sabato 7 novembre Al padiglione numero 5 Alle ore 17 Vi aspetto tutti Vi aspetto numerosi Vi aspetto a braccia aperte Non vedo l'ora di incontrarvi Da ombretta e da arte per te è tutto Vado a preparare le valigie Ciao Ci vediamo a Napoli